Ciao ragazze e ciao ragazze, oggi faccio un video un po' particolare e un po' diverso dal solito Faccio questo video perché sotto il mio video del vi aiuto all'occhio critico di qualche puntata fa, di qualche settimana fa Una persona mi ha lasciato un commento, ossia Davvero sei malata? Ma non si vede, sei piena di vitalità e metti tanta allegria Come si spiega? Allora, io inizio col dirvi che ho già parlato della mia malattia rara in un video, il video di Natale Però non avendo messo il titolone clickbait è arrivato a poche persone Oggi ho deciso di fare questo video perché compio 26 anni, ebbene sì, sto diventando vegia Sto scherzando ovviamente Ma è diciamo un resoconto, un anno con la mia malattia Perché oramai è un anno che ci sono dentro proprio con entrambe le scarpe Faccio dei periodi in cui sto molto bene, dei periodi però di peggioramento In ogni caso vorrei rispondere comunque a questa domanda e approfittarne Perché questa è una malattia che sta emergendo nell'ultimo periodo e che fino a 10 anni fa manco veniva diagnosticata E se veniva diagnosticata era per miracolo divino Quindi niente, perché non parlarne? Iniziamo col dire che addirittura i medici che trattano questa malattia sono davvero pochi Sono invece tanti quelli che non sanno esattamente che cosa sia, come fisioterapisti o osteopati Ma si impuntano nel voler comunque provare a fare delle manipolazioni Che spesso e volentieri vanno a peggiorare i dolori che deve subire il paziente affetto da questa patologia Credetemi, da quando sono entrata in questo mondo Sono entrata in parecchi gruppi Facebook proprio per cercare persone affette dalla mia stessa patologia È la cosa più ovvia E ho letto tante tante esperienze, tante tante esperienze diverse Di persone che spesso e volentieri da Napoli hanno dovuto farsi il viaggio della speranza fino a Milano Per cercare di avere una diagnosi Attenzione, una diagnosi eh Si parla solo di diagnosi Iniziamo a dare nome a questa patologia Io soffro di neuropatia del nervo pudendo O ancora meglio, nevralgia del pudendo Il pudendo che cos'è? Belli miei ovviamente è un nervo È un nervo che nel momento in cui si infiamma Porta dei bei dolori Assolutamente non indifferenti Sapete che comunque è un nervo che Se non mi sbaglio parte da bassa schiena Innerva sedere, genitali, eccetera eccetera E la caratteristica del nervo pudendo Se si infiamma ovviamente è creare dolore nelle parti che innerva Io vi posso dire che Come già avevo detto Avevo totalmente perso ogni utilizzo del mio corpo Dall'ombelico in giù Avevo male alle gambe Avevo anche altri problemi Perché poi mi si è anche infiammata la sciatica Non riuscivo a stare seduta Avevo perennemente male alla schiena Avevo problemi ginecologici Enorme, enorme Con bruciori che partivano a random Non si capiva che cacchio era E posso dirvi che Ognuno questa malattia La vive in modo diverso Perché C'è chi i dolori li manifesta tutti C'è chi manifesta dei dolori che Non sono neanche poi più di tanto consoni a questa patologia C'è chi alcune volte ne manifesta alcuni E altre ne manifesta altri Ovviamente con l'andare del tempo Non essendoci una vera e propria cura Per questa malattia Ma semplicemente dei modi Per non provare troppo dolore Inevitabilmente peggiora Ora vorrei rispondere a quella domanda Che mi ha fatto quella ragazza In un modo un po' più concreto Io sono stata tanto male Talmente tanto male E da non riconoscere più me stessa Per almeno 4 mesi buoni Quando però poi sono riuscita A trovare un medico Che quindi mi ha portato Verso la via della guarigione Ho iniziato automaticamente A stare un pochino meglio Nel momento in cui Sono stata un pochino meglio L'umore mi è balzato Praticamente alle stelle Ovviamente Come faccio ad essere così piena di vitalità Nonostante anche in questo momento Io abbia un mal di schiena Che Credetemi Non è indifferente Allora ragazzi Io posso dirvi che Quel tempo Almeno per quanto mi riguarda Il mio cervello Si è arreso al dolore Quindi questo me ne sono resa conto Quando Nel mio periodo in cui Sono stata male Ovviamente Nel periodo in cui Si ero in malattia Ma facevo dei miglioramenti Quindi nel periodo in cui Avevo dei miglioramenti Ho fatto due tatuaggi Due tatuaggi Che non mi hanno Non mi hanno fatto male Ma manco per niente A differenza di quelli precedenti Che invece un pochino di male Me l'avevano fatto Ecco Questo sicuramente È una di quelle cose Che a me Ha cambiato totalmente La vita Riesco a gestire Molto di più il dolore Qualunque dolore Adesso si Ovviamente questo Non è una cosa positiva Non è che Se riesci a gestire il dolore Allora che figata Però è chiaro Che dopo un po' Il cervello Insomma Si arrende E questo è il quanto Insomma Dopo un po' Il cervello Effettivamente Si arrende E smette Di mandarti Continuamente Questi input Di dolore Almeno Almeno Ovunque E avevo la nausea Ma a parte Quello Non avevo Altri segni Di influenza Era più un postumo Dell'influenzina Che avevo avuto Comunque del malessere Che avevo avuto Ecco Quella cosa lì Praticamente Mi ha devastato Tutti i muscoli Talmente tanto Che avevo male Ovunque Mi sembrava Di essere tornata Nella malattia Al 150% Perché la mia malattia All'inizio Mi faceva provare Fitte alle gambe A caso Che io non capivo Ed era tornata Questa cosa Fitta alle ginocchia Fitta alle caviglie Facevo fatica A stare in piedi Tutte queste cose qua Per quella giornata lì Era tornata E io non vi dico Quanto mi sono cacata In mano Ho detto proprio Chiaramente Per questa cosa Mi sono preoccupata Davvero tantissimo Poi però è andata meglio Ok E' quello che io faccio Per questa malattia Cerco di vivere Alla giornata E prendo in considerazione Il fatto che determinate cose Mi saranno precluse Per tutta la vita E nonostante i medici Provano a dirmi che Si sono un caso fortunato Perché ho beccato La malattia in tempo Perché ho avuto Dei miglioramenti Molto molto Importanti Io so Che determinate cose Mi sono impedite Come ad esempio Camminare in salita Una cosa a caso Ad esempio Sciare Ma non Per chissà che motivo Perché Se una persona normale Fa un infortunio E cade sul coccige Magari non succede niente Se io faccio un infortunio E cado sul coccige È facile che Peggioro di 40 volte I miei dolori E la mia malattia Quindi è chiaro che La mia vita Deve essere comunque Vissuta con dei paletti Ok? Io non posso più Fare quello che mi va Ed è una cosa Che a me scazza 26 anni Perché anche solo Il fatto di Poter andare a sciare Quando mi va È una cosa Che a me manca Perché era una cosa Che facevo con mio padre Era una cosa Che ci univa E non riesco più Non riesco più Perché Il freddo Prima di tutto Rigidisce i muscoli Perché il freddo Crea più problemi E i muscoli Effettivamente Poi sto molto meglio D'estate Rispetto all'inverno E quindi Ci sono queste cose Che Mi sono impedite A prescindere Nonostante I medici mi dicono Ma no Tranquilla Vedrai che ce la rifarai A fare tutto questo Magari sì Però io so Che al momento Non lo posso fare Ragazzi Nei primi video Che vi ho postato Sul canale Io ero mezza Incerottata Avevo tape ovunque Ma non ce li avevo Solo qua Ce li avevo anche Sulle gambe Perché quelle cose lì Servono per togliere L'agilità I muscoli Fondamentalmente E di conseguenza Io li usavo E mi hanno aiutato Tantissimo Tant'è vero Che il vero e proprio Miglioramento Ce l'ho avuto Da giugno in poi Diciamo Quando ho fatto il video Su Chiara D'Alessandro Ero ancora messa male Poi dopo il miglioramento Piano piano è arrivato Ma Il punto di questo video Qual è ragazzi Come fai ad essere Così allegra Solare Così Perché io non sono Il mio dolore Io sono Silvia Ho 26 anni Abito in provincia di Novara Sono una ragazza Abbastanza spigliata Sono Tendo ad essere simpatica Tendo a fare battute Tendo ad essere Molto molto vitale E sono così Perché è la mia personalità E io non permetto A una malattia A 26 anni Di spegnere La mia personalità O la mia vitalità Ripeto So che Dovrò fare i conti Con questa malattia Probabilmente finché campo Questo però Non mi impedisce Di tentare Di essere sempre Me stessa E di non perdere La mia personalità Io non voglio Assolutamente Smarrire Quello che è Silvia E quindi Il messaggio Che voglio mandarmi È questo Sì è vero Essere malattia È uno schifo E va benissimo Ma la mia malattia Ma la mia malattia Non mi deve impedire Di essere Silvia Ho imparato Ho imparato Il fatto che questa malattia Sia una parte di me Ormai E che ci debba convivere In qualche modo Questo però non significa Che io non possa conviverci Cercando sempre Di tenere un bel sorriso Sulla faccia Ragazzi Ho finito di parlare In questo video Spero che questo video Possa essere stato interessante O che vi abbia potuto Aprire un po' di più Gli occhi Su quello che provo Eccetera Cosa significa Avere la mia malattia E tutte le cose appresso Io vi saluto Credo che con questo video Più che aver fatto Un regalo a voi Ho fatto un regalo A me stessa Perché mi sono aperta E mi sono aperta anche Con qualcosa Che per me è importante Quindi sono felice Di avervi raccontato Questa cosa Sono felice Di aver girato questo video Io vi mando Un bacione Ci vediamo prestissimo Nel prossimo video Sicuramente con argomenti Più lieti e simpatici Mi raccomando Fate i bravi Mangiate sempre le verdure Ma soprattutto Ricordate che L'occhio critico Vi osserva